ecma 2018 siamo ancora live dallo stand kinko questo alle mie spalle è nuovo x town city 125 il look è del tutto nuovo prevede fare i full led qui all'anteriore con un design molto più aggressivo rispetto a prima vedete fare il full led luci delle indicatori direzione le frecce sono a led l'impianto frenante ben dimensionato con dischi dal profilo a margherita vedete qui la ruota fonica dell'abs ovviamente previsto di legge ora la grande novità del nuovo x town city rispetto alla versione tradizionale è questa qua la pedana piatta che permette di caricare tranquillamente le buste della spesa una cassetta d'acqua minerale insomma le classiche cose che si mettono su una pedana piatta vedete design del posteriore molto sportivo ampie le maniglie per il passeggero posteriore fare totalmente a led anche lì passiamo a un po di dati tecnici il motore è 125 centimetri cubi ovviamente quattro valvole raffreddato a liquido la potenza è di 11 kilowatt la coppia di 11,6 newton metro di coppia peso a secco 167 i chilogrammi il vanno sotto sella ospita un casco jet e niente non mi resta che chiedervi dunque che cosa ne pensate di questo nuovo x town city 125 lo valutereste come scooter da città fatemelo sapere nei commenti qui sotto se vi è piaciuto il video lasciateci un like iscrivetevi al canale e non dimenticate di seguirci su www.motorbox.com sui nostri canali social instagram facebook e twitter e ovviamente su youtube per non perdere tutti i video live qui dal salone di eicma 2018